Cosa bisogna fare quando i mercati stanno scendendo? Siamo nella seconda ondata, un'ondata un po' in attesa forse per questa sua violenza che è colpito comunque anche i mercati finanziari. Moltissimi in questo momento si stanno chiedendo cosa devo fare, devo chiudere gli investimenti, lungo periodo, breve periodo, medico periodo, cosa faccio, stop loss, non stop loss, analisi tecnica, analisi fondamentale, ne parliamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di queste tre regole che vi volevo dire e di applicare in un momento un po' particolare, un po' critico, come questa situazione di forse inizio di un crollo dei mercati finanziari che sta e va ad accompagnare in pratica quella che è la seconda ondata del virus che stiamo vivendo in questi mesi purtroppo. Ma quali sono le regole da applicare e qual è la cosa giusta da fare per una persona che ha già investito ed ha degli investimenti per esempio nelle stocks, quindi ai mercati azionari, ma anche, perché no, nel mercato delle criptovalute su Bitcoin. Ci sono tre regole, tre consigli che vi voglio dare perché secondo me sono i più importanti per chi in questo momento un po' tentenna e un po' ha paura anche della situazione perché parliamoci un po' chiaro ragazzi, tutti sappiamo che i mercati finanziari, soprattutto quelli old, sono strappompati dalla liquidità della Federal Reserve, sono strappompati da droga di immissione monetaria, perciò non abbiamo tanta confidence, non si chiama così, non abbiamo tanta confidence sui mercati finanziari old che siano effettivamente dei prezzi stabili, quindi qui intervengono una serie di problematiche che dobbiamo prendere in considerazione. In questo particolare contesto ragionare di lungo periodo ragazzi può essere estremamente complicato e anche estremamente difficile da gestire perché c'è un problema di fondo sul lungo periodo. Le quotazioni ragazzi degli strumenti stocks americane in particolar modo sono tutte fuori misura, completamente. È difficile trovare delle stocks, quantomeno quelle top, quelle che sono presenti nelle top 30 del Nasdaq per esempio o nell'S&P 500, che non abbiano quotazioni che oserei definire surreali ragazzi. Allora il problema di fondo è come faccio ad utilizzare un metodo di giudizio come un'analisi fondamentale che si basa sulla corretta valutazione di un'azienda se queste aziende che io poi ho in portafoglio ragazzi, io stesso ancora ho Apple, lo sto decidendo, se chiudere per esempio le operazioni su Apple e Paypal, lo sto decidendo, ancora non ho deciso, però come faccio a ragionare se dal punto di vista di analisi fondamentale i prezzi attuali di questi strumenti finanziari sono palesemente fuori controllo, palesemente solo a quotati perché siamo su un eccesso di quotazione. Quindi da analisi fondamentale dovremmo vendere tutto ragazzi perché l'analisi fondamentale ci dice che i prezzi attuali sono assolutamente insensati e questo per l'80-90% delle stocks che compongono gli indici americani. Quindi c'è un problema di sopravvalutazione in questo momento di tutti gli strumenti finanziari dalle obbligazioni alle stocks ragazzi, c'è proprio un problema di sopravvalutazione dovuto all'immissione di liquidità delle banche. Allora come faccio ragazzi a prendere le mie decisioni? Come faccio? Perché da una parte diciamo che vendiamo però non sappiamo se la banca centrale immetterà nuova liquidità, ci sarà nuova linfa e poi in effetti è difficile prevedere gli esiti di questa pandemia perché non sappiamo dove si sposterà la ricchezza magari negli anni futuri. Insomma è complicato, sono dei ragionamenti estremamente complicati perché è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una situazione del genere nel mondo moderno, l'ultima è stata un centinaio di anni fa. Ho pensato di dirvi questi tre consigli che ritengo invece un po' il pane quotidiano di tutti gli investitori e che sicuramente faranno riflettere tantissimi di voi e potranno darvi un grande valore aggiunto. Quindi invece di fare il famoso scontro, quindi la famosa guerra, analisi tecnica, analisi fondamentale, ciclica o altro, andiamo a ragionare su quelle che sono tre regole del buon padre di famiglia assolutamente applicabili in ogni investimento, in ogni dove, in ogni quando. Funzionano sempre. Prima regola, allora ragazzi, non dovete farvi prendere dal lato emotivo. Lo so che è più facile a dirsi che a farsi, ci vuole esperienza in questo momento, però lato emotivo significa che non dovete andare in panic selling perché il mercato, soprattutto quando ci sono queste situazioni, enfatizza la storia del panic selling. La stessa cosa vale anche per i mercati cripto, quindi non solo hold, ragazzi. Anche per i mercati cripto molte altcoin sono crollate in maniera indiscriminata e purtroppo c'è un solo modo di gestire queste cose, e ve lo dico alla fine del video. Cercate di controllare le vostre emozioni e non prendete decisioni dovute all'impatto emotivo. Seconda regola, questa è importantissima perché di natura tecnica, quindi già si innalza, non è soltanto comportamentale. La seconda regola, ragazzi, è quella di non andare ad essere dispiaciuti di aver perso il top di mercato. Il top di mercato è il massimo. Quando uno strumento finanziario fa il massimo, gira e fa un top, si dice così, ragazzi. A moltissimi sono poi bloccati dalla vendita di uno strumento, dalla vendita di un investimento, perché ragionano così. Dicono, benissimo, qualche giorno fa avevo fatto il top, avevo guadagnato 20, adesso sto guadagnando 12, non voglio lasciare sul campo quella percentuale che ho lasciato. Cioè praticamente non vedono il bicchiere mezzo pieno, vedono il bicchiere mezzo vuoto. Cioè non vedono che stanno guadagnando il 12, ragazzi, ma vedono che hanno perso dai massimi. Quindi non dovete cercare il top. Ogni strategia di trading, di investimento, quelle di investimento molto di più di quelle di trading, ragazzi, non cercano mai i top di mercato. E neanche i bottom quando andate ad acquistare. Perché è sbagliato farlo? Non perché qualcuno non vuole farlo, ragazzi. Sicuramente vendere ai top può capitare anche a un trader che magari è molto esperto, ma è una casualità, non è un dato di fatto e soprattutto non deve essere il vostro obiettivo. Nel momento in cui andate a ragionare una strategia, un'operazione finanziaria, che sia investing, che sia trading, ragazzi, non dovete cercare i top di mercato, ma prendere le vostre decisioni, la vostra scelta, sulla base di quello che il mercato vi sta comunicando. non sul fatto che ieri era più alto o più basso, bensì sul fatto se il rischio di tenere quello strumento finanziario è aumentato, è elevato, è cambiata qualcosa nel mercato. Cosa sta succedendo in questo momento? Mai cercare il top o il bottom in una strategia. Ragionate sempre a entro perché è buono, lo strumento esco perché il rischio è aumentato, è cambiato qualcosa, ho ottenuto il mio target, il mio profitto. mai cercare il top, ve lo ripeto, mai, no? Mai. Ok ragazzi, terza e ultima regola e poi vi do i miei soliti consigli, i miei soliti bonus che do sempre alla fine di ogni mio video. Terza e ultima regola che poi fa la spalla sinistra di la prima, ragazzi, mai restare immobili, impauriti dai crolli. Quindi non vi bloccate, il panic selling, ragazzi, vi fa o vendere velocemente gli strumenti finanziari o non venderli proprio, vi fa bloccare e dite ok, non voglio perdere, non voglio vedere niente, spengo il computer, metto la testa sotto la sabbia, faccio finta che non esisto, lo guardo fra tre anni. Oppure avevo fatto un'operazione di investimento che dovevo chiudere entro la fine dell'anno, siccome adesso sto perdendo, non la chiudo più, la sposto e la chiuderò fra dieci anni. è diventata un'operazione di lungo periodo, cioè cambiate la strategia. Ragazzi, l'unica cosa che sta avvenendo in questo caso non è una strategia razionale, non è una strategia pensata, non è qualcosa che vi può portare un risultato. Se lo fa è solo casuale, è semplicemente paura. Siete bloccati dalla paura. In questo caso, la paura è negativa. Quindi l'altra spalla mancante della regola numero uno che vi diceva di non essere emotivi, volateli emotivi, non dovete essere neanche paurosi. Quindi non dovete restare immobili, bloccati, ghiacciati dalla paura. Allora, ci sono questi due lati dei nostri baffi, ragazzi, chiamiamoli così. Dov'è la chiave di volta? Qual è il vero atteggiamento? Quello che può portarvi un valore aggiunto? Sta al centro, ragazzi. Un po' alla Platone, ok? Allora, potremmo dire che sarà al centro sempre. Perché? Perché nei mercati finanziari vince sempre chi applica una strategia predeterminata, non definita nel momento in cui avvengono gli eventi. In sostanza, l'idea generale è questa. Dove uscire, ragazzi? Dovevate impostarlo quando avete iniziato il vostro investimento? Sia parlando di investimenti di lungo periodo, sia parlando di operazioni di trading da qui a due ore. Le strategie si impostano sempre sapendo quello che si fa. Nella mia Academy faccio sempre un trucchetto, ragazzi, a tutti i nuovi iscritti. Quando parliamo insieme, chiedo sempre quali sono i loro obiettivi di una strategia di trading o di un'operazione. E lì, ragazzi, li metto subito in croce. Allora, solo lo faccio perché sono un bambino. Non è per questo, ragazzi. È per far riflettere tutte le persone su quella che è la chiave vera di ogni strategia di investimento. Abbandonare il lato emotivo e ragionare su quello che si sta facendo. Quindi, anche in questo caso, il mio consiglio principale che posso dare a tutti gli investitori che si trovano davanti a questo tipo di crolli e a quello che verrà, perché, ragazzi, non sappiamo se queste fasi di bassiste si fermeranno o continueranno. Anzi, a tal proposito, penso di pubblicare nel mio canale Telegram delle analisi di natura tecnica, quindi analisi tecnica sulla tempistica, quindi con i grafici, ragazzi. Li trovate nel mio canale Telegram, gratuito, lo trovate in descrizione, basta cliccare. Questo è il mio consiglio. Riflettete le vostre strategie e pensate quali obiettivi hanno e andate a decidere se stare o meno su quell'investimento che magari sta scendendo, non in base al fatto se avete guadagnato o meno, ma se giusto o meno, ragazzi, quell'investimento era quello che volevate fare. Quali erano i vostri obiettivi? Non vi lasciate nascondere la verità dai mercati, dalle oscillazioni. Non abbiate paura, ma non siate emotivi, siate razionali e soprattutto attenetevi al piano. Seguite il capo. Ok, ragazzi, questi tre consigli da applicare con la soluzione finale a tutti i mali. Dominare le vostre emozioni e andare a fare una strategia, a pianificare le strategie inserendo il vostro stop, ragazzi, che può essere sia uno stop loss da un'operazione, sia un trailing stop. E chi di voi sta ragionando in questo momento dicendo, beh, sono operazioni che ho aperto per il mio lungo periodo? Se avete aperto queste operazioni per i prossimi dieci anni, domandatevi una cosa. L'azienda in questione è sopravvalutata o sottovalutata? Perché se ragionate nel lungo periodo dovete capire anche se avete comprato un qualcosa che è sopravvalutato o sottovalutato, visto che questo momento storico purtroppo presenta questo problema della sopravvalutazione di moltissimi strumenti finanziari. Allora, in quel caso, primaria importanza ragionare su questo argomento. Ci vediamo nel prossimo video. Mi sono dimenticato una cosa importante di dirlo all'inizio. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, ma ancora un'altra cosa, ragazzi. Se mi lasciate i pollici in su mi aiutate con YouTube soprattutto questi video informativi che sono di grande utilità per tutti. Su quei pollici, ragazzi, datemi una mano. Ciao a tutti! Ciao a tutti!